Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti, di aver affrontato questo clima soffocante. L'ultima volta che, una delle ultime volte che io e Mario ci siamo incontrati era in occasione dell'edizione dell'anno scorso del Festival della Comunicazione. Lui avrebbe dovuto parlare l'ultima giornata, che come sappiamo doveva parlare del linguaggio delle catastrofi ed era in corso una sorta di catastrofe ambientale. Infatti abbiamo annullato l'ultima giornata. Quest'anno abbiamo il sole, molto caldo, ma veramente con grande piacere che chiamo sul palco Mario Tozzi. Grazie. Prometto che non ci saranno terremoti nei prossimi dieci minuti. Dopo però non siamo in grado di garantirlo perché, come sapete, non è possibile prevederli. avrei voluto fare una chiacchierata più completa in qualche modo e anche più esaustiva. Invece i fatti poi ci condizionano e dunque il terremoto di Amatrice per forza condurrà almeno la prima parte di questa esposizione. Perché quello che ci interessa in questo momento non è tanto guardare l'evento naturale a carattere catastrofico insieme, ma vedere come se ne parla di questi eventi, se lo si fa in maniera corretta e soprattutto con che tipo di linguaggio. Non se ne avranno a male i vari giornalisti che si sono occupati di questo terremoto, se li ho chiamati un po' in causa, adesso vedremo come. Le parole per dirlo. Questi sono alcuni dei termini che dagli eventi naturali a carattere catastrofico sono mutuati poi nel linguaggio comune e si usano. Quando ci fu la tragedia in Val di Stava il termine tracimazione divenne un termine comune. Poi si usa anche in maniera un po' impropria per le alluvioni, ma insomma quello che significa è che appunto si vada fuori dell'orlo. Diluvio, beh, gli uomini lo usano da sempre, fino dalla Bibbia, ma corrisponde probabilmente a un evento naturale. Dopo lo tsunami del 2004, anche questa parola entrata nella terminologia comune, si intende con tsunami, qualcosa che è quasi più sconvolgente del terremoto e arriva dal mare alle sue ondate, dunque è un fenomeno come fosse pulsatorio. Terremoto, non ci facciamo più caso, ma quando si parla di terremoto politico, sempre da lì la prendiamo quella parola e così pure cratere. Un termine sul quale poi mi soffermerò, si parla del cratere dell'Erpinia, per esempio, o del cratere del terremoto. Ma il cratere non è qualcosa che ha a che fare con i vulcani, anzi all'origine non è un vaso, se vogliamo stare all'etimo greco. Colata è quella di lava, ma si usa soprattutto, che ne so, la colata di cemento. E smottamento, oppure un altro termine che viene da questo linguaggio. Adesso proviamo a vederli un po' nel dettaglio. Ripeto, usiamo il terremoto di Amatrice, magari ne parliamo anche un attimo, lascerò qualche spazio alla fine se si vuole parlare di questo. Per esempio, qualcuno si potrebbe domandare se la Liguria è rischio sismico. Qualcuno si è già domandato se la Liguria è rischio sismico? Anzi, si è già domandato. Si è pure risposto? Allora, il 24 agosto un terremoto di magnitudo 6 Richter colpisce la zona d'Italia, il centro d'Italia proprio, quello è il centro geografico d'Italia, compreso fra Lazio, Lumbria e le Marche. Tra i tanti giornali ho scelto Repubblica come una guerra. Migliaia di feriti, 165 morti, eravamo appena dopo, sarebbero diventati quasi 300, paesi rassi al suolo. La terminologia della guerra è infatti titola come una guerra. Ma perché questa analogia? Abbiamo bisogno di ricorrere all'analogia con la guerra per spiegare un fenomeno che viene da sotto e non da sopra e che di suo, in Italia soprattutto, ha mostrato tante volte il suo carattere, come è fatto, che davvero non ci sarebbe bisogno di andarsi a riferire a un bombardamento. Perché quando vedono queste case qui, queste macerie qui, l'idea è di qualche cosa che sia accaduto dall'alto e già questo è fuorviante. Non è un bombardamento, non sono colpi di mortaio, non sono passati B52, questo viene da sotto. Questo tipo di paragone è un paragone che si usa ma è assolutamente improprio nel linguaggio delle catastrofi. Se no, quello che vediamo è, naturalmente questo è un giornalista che amo molto, Massimo Cremellini che sarà qui domani, immagino, e si parla di una descrizione dell'evento, a un certo punto dice, qui Dio c'entra poco e Leber vede il terrorismo per nulla, perché la vicinanza con alcuni attentati faceva parlare di questo, questo è un attentato che gli italiani si sono fatti da soli. Questa è una frase più interessante che contiene un margine di riflessione molto importante, perché ci dice il giorno stesso del 25 agosto, ci dice che qualcuno di coloro che interpretano i fenomeni fisici, che non sono necessariamente dei geologi, ovviamente dei giornalisti, si è posto il problema che questo non dipendesse da un abbombardamento, ma da qualcosa di interno, nemmeno più soltanto dal terremoto, ma su questo ci torniamo. Qui mi perdonerete il linguaggio, ma Enzo Bianchi sapete tutti chi è? Un uomo di religione, di cultura? Il titolo non è il suo, però mi interessa, credo non l'abbia fatto lui, ma mi interessava sapere l'uomo davanti alla rabbia della natura. Ma qui non c'è nessuna rabbia della natura. Perché la natura dovrebbe essere rabbiosa? Per quale ragione? Fa il suo mestiere. Però nella titolistica giornalistica quello che è interessante è richiamarsi a un concetto che possa identificare un nemico. In questo caso però è molto forviante, perché ti fa pensare che il vero nemico sia la terra e non chi si è mosso male su quella terra. Sarà il caso di ricordarlo, ma i terremoti di suo non uccidono. Perché se tu ti trovassi in un deserto e prendessi per qualche ragione un terremoto di magnitudo anche molto forte, diciamola più forte di tutte, il terremoto più forte di tutti è stato nel 1960 e in Cile aveva di magnitudo 9,6, 9,7. Ma quella che non è una scala, quella che noi chiamiamo impropriamente scala Richter, non è una scala in senso stretto, è diciamo uno strumento logaritmico, in questo senso è in scala, che però non ha un tetto superiore e nemmeno uno inferiore. Esistono terremoti di magnitudo negativa e non sappiamo quant'è il terremoto di magnitudo più alta atteso su questo pianeta. Il più alto di tutti è quello registrato finora, ma non è impossibile la magnitudo 10 o 12. Non l'abbiamo mai registrata perché gli uomini registrano terremoti da poco tempo, ma non è impossibile. Quando tu invece mi parli di rabbia della natura, è come se mi volessi dire che questi non sono fenomeni naturali, ma sono fenomeni in cui la natura ha guardato bene come stanno gli uomini e ha detto adesso me la piglio con queste diamatrice. Non può funzionare così. Sarebbe bene anche ricordarsi sempre che c'è una differenza fra quella che chiamiamo impropriamente scala Richter, questo appunto di cui si parlava delle magnitudo, che è logaritmica, poi ci torniamo su questo perché c'è una certa importanza, e invece quella che è la scala Mercalli, che è una scala dei danni. Dunque tu puoi avere un terremoto debole che fa danni devastanti, è il caso, o un terremoto fortissimo che avviene in un deserto e non fa nessun danno. Dunque il terremoto fortissimo in un deserto per la scala Mercalli è 1. Il terremoto debole che fa molti danni e molte vittime è 10 o 11 o addirittura 12, pure se non è così forte, ma se vogliamo confrontare terremoti e vedere tra loro se sono simili, dobbiamo prendere la magnitudo. È l'unica che esprime l'energia sprigionata nel sottosuolo. Non possiamo prendere i danni perché dipenderanno da come sono costruite le case. Di tutto questo ai giornalisti non frega granché, quello che troviamo è ancora, qui è Molinari, il mio direttore, io scrivo sulla stampa, ma non si arrabbierà se parla della templa non comune, non cedere alla violenza della natura. Ma è la stessa cosa della rabbia, perché c'è una violenza della natura, non c'è nessuna violenza nella natura. Come a dire, quando parliamo di terremoti, quello che ci viene in mente, siccome la catastrofe per eccellenza, addirittura il terremoto è, catastrofe significa stravolgimento, il terremoto è proprio lo stravolgimento più duro di tutti perché va a intaccare la cosa che ti sembra più stabile, poi su questo ci torniamo, cioè la terra che hai sotto i piedi, tant'è vero che noi usiamo dire teniamo i piedi per terra, ma se ti trema la terra poi diventa difficile tenerli. E anche qui la violenza della natura. E poi due opinionisti che io amo moltissimo entrambi, raccontano il terremoto il giorno dopo, Gian Antonio Stella c'è stata, fa un bellissimo pezzo, e poi dice uno dei paesi azzannati e sbriciolati ieri notte dal terremoto, la personificazione del terremoto, azzanna e sbriciola. Tutto al più si muove, questo non è il terremoto, questo è l'uomo. Questa differenza è difficile da chiarire e qui invece Rizzo che usa questo termine qui, l'avevo già nominato, l'area del cratere. Ma perché c'è questa cosa del cratere? L'uso della parola, del termine cratere nei terremoti, dunque un termine che è vulcanico, riguarda i crateri vulcanici, che deriva dalla parola greca cratere che significa vaso, quindi la sua forma circolare, semicircolare, viene però preso nel 1980 a proposito del terremoto dell'Irpinia che ha colpito una valle, la valle dell'Ofanto, che ha una forma grossomodo allungata, quindi non è per niente circolare, è come un ovale diciamo, ma molto schiacciato, un'ellisse e vedendoli dall'alto le case sbriciolate rispetto a quelle rimaste in piedi sono più basse e allora, ma non c'è nessun buco, i terremoti non fanno buchi, però questo termine ormai è talmente diffuso, io sono quasi stufo di combatterlo perché ormai è l'area, il cratere del terremoto, e nel Vesuvio che ci sarà? Sarà un cratere pure quello? E in genere la confusione è un termine che non mi piace per niente, però ormai ce l'abbiamo. E poi c'è l'amico Severgnini che è pure qui da queste parti, che ci racconta questa storia. Allora, per cominciare un sisma di questa portata è quello che nel mondo di lingua inglese chiamano an act of God, un atto di Dio. Nell'uso legale indica una circostanza fuori dal controllo umano un disastro naturale per cui nessuno può essere ritenuto responsabile. Ma non è vero per niente. Dov'è Beppe? Questo non è vero per niente. Il termine act of God nasce come termine legale effettivamente per le assicurazioni delle compagnie di navigazione inglesi. Il termine antico perché quando assicuravano e riassicuravano i Lloyds, per esempio, dovevano tenere conto degli atti di Dio a quel tempo ritenuti tali che erano quelli meteorologici, cioè le tempeste. Quando si distruggeva tutto il carico, quello sì che al tempo in cui non ci sono previsioni meteorologiche è un atto di Dio imprevedibile. Quelli navigavano a vista con la vela, avevano solo la bussola e da poco avevano conosciuto la longitudine. Dunque, non poteva essere previsto, anche se tu sapevi una rotta più pericolosa di un'altra. Quello è l'atto di Dio. È un termine legale di derivazione meteorologica. Non vale per i terremoti, per una ragione molto precisa, che gli inglesi i terremoti non ce l'hanno. Non sanno nemmeno che vuol dire. Dunque è proprio improprio questo uso qui. Cosa significa una circostanza fuori dal controllo umano un disastro naturale? Non esistono i disastri naturali. Esistono gli eventi naturali. Diventano disastri solo per colpa nostra. Dopo voi mi direte un evento, io vi spiego perché è colpa nostra e basta, tranne uno. C'è solo un evento naturale su cui non possiamo fare nulla. Ed è l'impatto con l'asteroide. Quello gli uomini non c'entrano. Armatevi di mazza da baseball e aspettatelo. Non ci possiamo fare niente. Ma tutto il resto, il terremoto, ti uccide perché hai costruito male la casa, l'alluvione ti becca perché ti sei messa in un posto improprio, l'eruzione vulcanica uguale, la frana stessa cosa, lo tsunami uguale. Tu ti sei messo in un posto pericoloso o hai addirittura creato il rischio. Non esistono i disastri naturali. Tanto o meno sono atti di Dio. Una roba di questo genere, quando la leggi ti dici, vabbè, ma ti sei fatto una domanda su quello che sono gli eventi naturali, su quello che è la terra, non te la sei fatta oppure ti sei dato una risposta sbagliata. E poi, questo è il più bello di tutti. No, questo lo devo leggere perché è il più bello di tutti. Susanna Damaro, insomma. Avrei dovuto accorgermi che qualcosa non andava l'altro ieri sera vedendo i miei cani abbagliare inquieti sul prato. Sarà passato un gatto? rifiutandosi di rientrare in casa per raggiungere le loro cucce. È già qui. Ma dopo, come avrei dovuto allarmarmi quando, ormai già a letto, ho sentito la consueta sinfonia dei grilli e degli insetti notturni aumentare fortemente di tono. Come una grande onda che all'improvviso si erge impetuosa nella notte. Ma di che sta parlando? Si è sentita male. Aveva bevuto. Già i cani. Allora, questa storia è che i cani possono condurre a prevedere un terremoto. I cani, come i gatti e altri animali, hanno una sensibilità acustica ampia. Siccome il terremoto è fatto di due treni di onde che arrivano, le onde primarie e le onde secondarie, P ed S, e siccome i due treni sono separati, arrivano prima le onde P che sono più veloci e poi le onde S, gli umani non avvertono le onde P, ma può essere che qualche animale le avverta. Questione di secondi, prima del terremoto. Poi c'è tutta la gamma degli ultrasuoni, nel terremoto è una liberazione di energia elastica, dunque anche acustica. È un botto. Molti parlano del boato del terremoto. Può darsi che nella gamma degli ultrasuoni questi animali avvertano prima, poco prima, qualche frazione di secondo prima, quello che sta succedendo. Ma non è assolutamente possibile sistematizzarlo, anche perché molti animali stanno tranquilli e se poi è vero che avvertono questa gamma di suoni, quando passa un tir vicino casa dovrebbero fare la stessa cosa. Non la fanno. Ma perché non la fanno? Perché è casuale. Quindi già il cane, ma l'ondata dei grilli, io non l'ho mai sentito. I grilli che si mettono lì. E sarà stato, che non lo so, era il periodo dell'accoppiamento. Io non lo so che cosa hanno fatto. Ma si può leggere sul più importante giornale italiano, tra i commenti, perché gli scrittori, quando fanno gli scrittori sono meravigliosi. Nel caso di Susanna Tamaro poi ognuno può discutere. Ma questa è proprio una sciocchezza. Non siete andati dove vi portava il cuore? È un peccato, però nel caso specifico è veramente fuorviante, perché tu domani hai letto il giornale, non ne sai granché, ci vedi però, pure lei dice che c'era il cane, e il gatto mio che ha fatto, e il canarino, e il maiale se per caso è agitato, quell'altro ha zannato qualcuno. Per non parlare di tutta l'altra pletora di cose che per fortuna qui non sono ricordate, che però sono sicuro che molti di voi pensano, perché non vi do tanta fiducia, ma non è vero, solo perché c'è delle ciabattine, anch'io le avrei messe volentieri, ma mia moglie mi ha costretto a non farlo, quindi gli altri che dicono, per esempio, c'è un tempo da terremoto. E che vuole dire? Intanto è brutto o bello? È così? No, c'è un tempo. Dicono diverso, dicono c'è aria di terremoto. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. I fenomeni atmosferici sono migliaia di metri sopra le nostre teste, i fenomeni tellurici sono migliaia di metri sotto i nostri piedi, che tipo di relazione ci sia fra i due fenomeni e non si capisce, non c'è nessuna relazione. Per non parlare di quello che c'è, il callo che gli fa male quando viene il tempo brutto, ma pure quando c'è il terremoto. Per non parlare di quelli che poi l'hanno previsto, c'era un signore che si chiamava Raffaele Bendandi, che si diceva avesse previsto tanti terremoti, in particolare ne prevedeva uno a Roma forte, ma poi si diceva che avesse previsto il terremoto di Avezzano del 1915. Questo perché fu ritrovato un biglietto in cui gli diceva ci sarà un grande terremoto in Abruzzo una domenica di gennaio, ma non c'è la data su quel biglietto. Ci sarà sì, può darsi, potrebbe essere pure una domenica, ma non sappiamo se è di gennaio, ma su queste cose nessuno è in grado di prevedere i terremoti. Adesso magari vi racconto in breve cosa si può fare in questo campo, ma non li possiamo prevedere, è proprio difficile da maneggiarli, eppure molti, la prima domanda che ti fanno se sei geologo o geofisico, ma scusa ma non lo potevate prevedere, non lo potevi prevedere tu, invece di raccontarci che dipende da altre cose, no, non lo potevo prevedere perché sono fenomeni che avvenendo sotto terra sono nascosti alla nostra osservazione diretta, dunque non li vediamo direttamente, è molto complicato prevedere qualcosa che non vedi e non tocchi, e non puoi misurare. Un solo terremoto è stato previsto al mondo, nel 1975 in Cina una provincia intera fu evacuata, anche perché c'è un regime che ti fa fare queste cose in breve, ci fu un terremoto di magnitudo 7,6, fece diversi morti, un migliaio o un paio di migliaia, dunque non proprio andò liscia, ma salvarono tantissime persone. Ma in quel caso la previsione fu così certa, perché era da mesi che quello che succedeva era, si sollevava il terreno, c'erano tremori sismici tutto il giorno, si seccavano le sorgenti, usciva il gas dal sottosuolo, insomma avrebbe previsto pure un cieco, cioè non... E con la forza di regime, ma se tu mi dici, è successo anche nel terremoto dell'Aquila, ho misurato il gas radon nel sottosuolo, mi sembra che stia aumentando, nella provincia di Sulmona, che faccio? Evacuo l'intero Abruzzo? Per quanto tempo poi? Cioè se tu evacui rispetto a un sentore di fenomeni anche fisici, lasciamo stare i cani, e non succede niente, come li fai rientrare in casa poi? Dicendogli che non è successo niente, siccome si calcola che sono circa uno su quattro gli allarmi per i fenomeni naturali che poi si rivelano infondati, sarebbe davvero complicato. E del resto in Italia sequenze sismiche come quella che precedette il terremoto dell'Aquila nel aprile del 2009, ce ne sono una... diciamo un 5-6 all'anno, ce ne saranno state negli ultimi anni, negli ultimi anni fare 140 e nessuno aveva portato a un terremoto. Come si fa? Questi sono gli unici piccoli dati, la misura di questo gas del sottosuolo che è il radon che sembra aumentare prima del terremoto, ma non si sa quanto tempo prima e in che misura aumenta, perché tu dovresti avere un tappeto di misure precedenti per dire questo è più alto, ma non ce l'hai, perché non è che puoi monitorare tutto il radon del territorio italiano. Dunque la previsione dei terremoti non solo non va bene, ma ti fa sviare da quello che è il vero obiettivo, cioè la prevenzione. Io so dove avvengono, so quanto saranno forti, non so quando mi attrezzo. E invece ci stanno i grilli. Poi anche questo qui di destra, Carlo Roverli, come sapete è un fisico che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Sette brevi lezioni di fisica, che ha pubblicato Adelphi, ci racconta una cosa, si vede che è un articolo scritto un po' di fretta, se posso permettermi, dice però, si diceva che Anastimandro aveva salvato gli spartani perché aveva previsto un terremoto e li aveva avvisati. Dobbiamo fare i dettagli, studiare i pericoli a un certo punto, ma siamo limitati e mortali, non siamo i padroni della realtà. Le armi della scienza sono efficaci, non onnipotenti, eccetera. Penso che dobbiamo fare il possibile per prevenire e minimizzare, ma dobbiamo anche accettare i nostri limiti. Ma sì, è tutto giusto, filosoficamente è anche molto condivisibile, ma che cosa significa accettare i nostri limiti? Rimanere lì fermi con la casa mal costruita? No, forse su questo qualcosa invece si può fare. Dunque, in qualche misura, questo è un articolo che ci dice di non essere fatalisti, ma di affidarsi alla scienza, ma siccome la scienza non riesce a prevederli, allora noi siamo di nuovo insignificanti. Infatti, che cosa dice? A un certo punto, pregare un Dio o un altro può portarci conforto e consolazione. non diminuisce i rischi, ma in pratica ti invito a fare questo, perché se tu non mi dici che sei limitato, certo che sono limitato, ma non nella comprensione e soprattutto non nell'azione. Ho una casa in una zona sismica S1, invece di comprarmi la cucina da 15.000 euro metto delle catene nei muri, vedrai che mi salvo la vita? Non è che sono limitato in questo caso, ho tutto il tempo e il modo per poterle dire certe cose. E questo è quello che dicevo all'inizio, qui si parla di Aruchi, va bene, che ci dice però è una cosa strana un terremoto, noi siamo convinti che la terra che abbiamo sotto i piedi sia qualcosa di duro e di immobile, quello che dicevamo prima, ci crolla la terra sotto i piedi, ma non è vero che la terra è immobile, è questo che è sbagliato. La terra non è immobile manco per niente, la terra è dinamicissima, si apre. Abbiamo scoperto col terremoto di Amatrice, per chi non lo sapesse, insomma noi che studiamo queste cose magari un po' più sì, che la parte tirrenica e quella triatica dell'Apenino si distanziano 5 mm all'anno. Se vivessimo in Islanda e uno abitasse a Reykjavik e l'altro sul Vatnajokul, due posti opposti, uno est e uno ovest, ogni anno ci distanzieremo di 2,5 cm, quindi molto di più, lo vedremo. Colombo, che attraversa l'Atlantico nel 1492, se lo facesse oggi quella attraversata lo troverebbe di 20 metri più largo, perché si sta aprendo, quindi ci metterebbe un pochino di più, due botte di vela di più. La Terra non è per niente ferma, statica, si muove, è dinamica sotto, c'è qualsiasi cosa che avviene. Dire che la Terra è ferma è semplicemente dire che noi camminiamo per terra e non su un aeroplano o in mare, ma non è ferma per niente, è dinamica. Se non capiamo questo e non lo assumiamo nella nostra cultura generale, non è che possiamo fare molto sulla questione delle catastrofi e dei terremoti. E questo invece è come rappresentano i giornali terremoti. Si vede, non ci sono scritti i danni, però si capisce che in questa specie di bersaglio quello che sta più al centro è più dannoso, effettivamente è l'epicentro, e poi man mano ti allarghi e vedete che il colore sfuma un pochino quando arriva a Roma, a Roma dove si è risentito il terremoto. Ma questa è una rappresentazione sbagliata di un terremoto. Ho polemizzato con un giornalista del Foglio che diceva tu fai sempre l'esempio di un paese beneventano che regge i terremoti perché è ben restaurato. Lui dice ma è molto lontano dall'epicentro. E ma tu non sai che significa la lontananza dall'epicentro. Non lo sa nessuno perché continuano a produrre questa roba. Allora questa roba qui significa che io mi muovo in questa direzione verso Roma e ho piano piano progressivamente l'intensità che diminuisce. In genere questa viene fatta sui danni quindi sono i danni che diminuiscono. In realtà queste che si chiamano isosisme cioè linee di uguale danno del terremoto non sono circolari. Nell'Apennino sono tutte allungate nord-ovest-sud-est cioè fanno questo ovale qui. Rappresentarle così è sbagliato. Dove sei andato? Oltretutto sono molto sfrangiate cioè succede che qui va così poi farà un pezzetto così poi ritorna qua poi andrà da questa parte perché la canalizzazione dell'energia sismica nel sottosuolo dipende dalla geologia e quindi quello che c'hai sotto i piedi lo dovresti sapere sotto casa. L'effetto sito come si chiama probabilmente ha funzionato lì. Pescara del Tronto è rasa al suolo per riprendere il discorso della guerra e Arquata del Tronto no. sono molto vicini il terremoto è lo stesso però Arquata del Tronto sta su una rocca di roccia dura mentre Pescara sta su una roccia morbida forse quello ha contato ma sono molto vicini in questo caso rappresentarla in questo modo è fuorviante sembra che quanto più forte il terremoto tanto più lontano arriva infatti questo si è sentito sia a Firenze che a Napoli ma perché si è sentito a Firenze e a Napoli? Proprio perché è allungato in questo modo altrimenti non ci saremmo mai arrivati e infatti non ci arriva neanche lui col disegno qua. Dunque è proprio sbagliato fanno una telefonata e dice scusa come sono le isosisme del terremoto ma purtroppo la domanda che si fanno è iso che perché non è che possono sapere tutto questo è un pezzo invece di cento anni fa dopo il terremoto di Messina e dice a un certo punto vabbè ognuno se lo può leggere Messina risorgerà ancora una volta coerente a se stessa e troverà ancora una volta di risolvere il suo particolare problema che è quello dei palazzi a buon mercato sembra scritto ieri sembra scritto per le zone del terremoto di oggi guardate io ho visto un sacco di terremoti in vita mia adesso purtroppo molti all'estero tanti in Italia io una devastazione come quella che ho trovato da matrice ad accumuli non l'ho mai vista mai e faccio il seguente ragionamento che non ho visto fare sui giornali se non per quello che ho potuto scrivere io il terremoto dell'Aquila del 6 aprile del 2009 era di magnitudo 6,3 Richter ha ucciso 300 persone ha provocato 70.000 sfollati e distrutto la città come sapete il terremoto di Amatrice che è di magnitudo 6 Richter ritorniamo alla scala logaritmica che non significa che è solo 0 o 2 volte meno potente significa che è 30 volte meno potente e decine di volte meno distruttivo in un'area che fa solo 3500 sfollati dunque molto poco popolata fa gli stessi morti e molti più danni c'è solo una risposta hai costruito peggio la zona sismica è la stessa S1 per tutte e due all'Aquila le persone sono morte in quel 10% di case in cui hai risparmiato sul tondino di ferro e hai usato la sabbia di mare invece che di fiume dove hai costruito male se tanto mi da tanto ad Amatrice quello che si troverà è che questi sono morti in case costruite peggio perché con meno gente e un terremoto molto più debole non dovevi avere gli stessi morti e molti più danni questo l'avevano capito benissimo qual è il problema i palazzi a buon mercato in quel caso sono le 70 frazioni di Amatrice con le seconde case dei romani fatte a tirarle su così poi su questo torniamo dice va bene avrà Messina la sua palazzata un uomo che effettivamente c'è eccetera un giorno fra 100 fra 200 anni ritornerà il terremoto sconquassatore ebbene che importa ai Messinesi muore il padre ed il figlio mette al mondo altre carature che moriranno beh vabbè l'esperienza dei nostri antenati non è mai valsa a farci evitare uno sproposito 100 anni fa ed infine se c'è cosa bella questa cosa bella è l'ostinazione degli uomini nell'errore lui è quasi contento nell'errore che poi la vita con le sue parziali vittorie con la sua definitiva sconfitta eccetera venga da una pestilenza o da una battaglia dal terremoto dall'indigestione messi allo stesso livello però è significativo cioè queste cose gli italiani le sanno meglio che in qualsiasi altra parte del mondo perché sono 2500 anni che registriamo terremoti stanno negli scritti nei palazzi nei monumenti non li vogliamo vedere è un problema di memoria prima che di cultura la memoria di questi eventi ci fa paura la teniamo lontana preferiamo spaventarci del 21 dicembre 2012 la fine del mondo dei Maya che una stupidaggine più grossa non sarà mai sentita e però invece della cosa che possiamo fare quando ricompriamo una casa e dire ma su che territorio poggia è una zona sismica è fatta di mattoni o di cemento posso migliorarla un pochino? questo no mi vedo il sindaco di Amatrice a breccetto con tutti quelli che arrivano dal governo alle cose che ci racconta dice ma questo è il terremoto no questo non è il terremoto questo è aperta parentesi pure chiusa parentesi colpa tua perché almeno controllare che la scuola e l'ospedale stiano in piedi durante un sisma forse sarebbe una cosa da fare e no che il miglioramento antisismico della scuola consista nel mettere il parquet per terra e le nuove mensole francamente questo diciamo in una zona di quel tipo là è una cosa che può venire dopo è meglio che ti lamenti della scuola spoglia piuttosto che della scuola crollata immaginate se questo fosse avvenuto in un altro orario con dentro i bambini finiva come a San Giuliano di Puglia nel 2002 qualcuno ricorderà 27 bambini morti più la maestra sotto una casa che aveva avuto lo stesso problema che hanno Amatrice che cosa succede costruisci le case in muratura dunque sono antiche poi a un certo punto dice ma io però una manzardina me la farei metti un bel tetto di cemento armato pesante forte ci fai la manzardina dentro quello oscilla caricato in testa come un pendolo inverso e si sfianca e crolla questo succede chi è che deve controllare che tu non mi rialzi una casa con il plateau di cemento armato che pesa una tonnellata lì il cemento armato è l'ultima cosa che devi usare usa il legno che è flessibile è leggero tieni insieme le pareti con i solai attraverso queste chiavi avete mai visto quelle viti che ci sono nei palazzi metti una rete elettrosaldata a pavimento se hai soldi pure alle pareti e stai tranquillo che la cosa migliore che fai con un terremoto magnitudo 6 è metterti sotto il tavolo aspettare che passa perché sennò cade il cornicione o il lampadario poi esci e fai le tue cose lì e io ho visto delle cose in quel terremoto adesso sta andando in onda la replica del programma che faccio sul Rai 1 che si chiama Fuoriluogo proprio dal terremoto ma la potete trovare in Rai Replay non tanto per vedere me ma perché lì si vede bene c'è un piccolo portone e c'è il suo ballatoio e poi le scale per uscire lì c'è su quel ballatoio un metro di cemento crollato lì se tu esci in quel momento sei morto se stai in casa se la casa è costruita bene ma le case erano costruite male è per questo che abbiamo paura ma non dobbiamo aver paura di rimanere in casa perché le cose che devi fare durante il terremoto sono un po' controintuitive non devo uscire di casa quando io invece non vedo l'ora di scappare perché mi sento in trappola però se la casa è costruita bene stai in un posto dove le magnitudo attese sono quelle cioè basse stai bene a casa lo so che non lo riesci a fare ma se ti eserciti magari lo fai lo fai più volte vedrai che alla fine lo fai perché rimani nella posizione più sicura non ci dovrebbe cioè far paura al terremoto a me mi dovrebbe far paura il costruttore a un certo punto dico ma scusate ma l'hanno fatta bene questa casa quello mi deve far paura non il terremoto è vero ci trema la terra sotto i piedi ma non è quello che ci dovrebbe far paura poi magari sui terremoti continuiamo questo è il giornale La Nazione di Firenze il 5 novembre del 1966 quest'anno sono 50 anni dice Firenze vive con calma eccetera un'autentica catastrofe ma catastrofe è stravolgimento letteralmente dal greco e se questa lo è l'Irpinia l'uso di catastrofe è veramente un po' diciamo inflazionato tante volte forse parlano più chiare le immagini tu vedi una roba del genere questa è Genova e vedi un tappo di autovetture oddio mio ma hanno parcheggiato proprio male oppure sarà stata qualche altra cosa ma succede anche a Genova che se non ti eserciti al linguaggio e alla memoria fai come quella mamma con i due bambini che al momento dell'alluvione del 2011 però non questa del 2014 scendendo sulla strada che ricopre il ferreggiano entra dentro un portone e scende le scale invece di salirle tu pensi ma come è possibile non sbaglierei mai una cosa del genere e invece sì se non lo fai se non c'hai in testa salire invece che fuggire è difficile che tu ti possa salvare questa è l'ultima eruzione del Vesuvio il Vesuvio se il problema è la memoria se lo sono dimenticato completamente nessuno si pensa più che possa essere questo che vedete è un filmato una fotografia ma c'è anche il filmato ripreso dai B-52 americani li vedete qua che svolazzano e dopo che sono stati liberati dalla scena sulle ali perché si erano appesantiti il tenente Norman Lewis che è quello che poi ha scritto Napoli 44 si fa un bel giro sul vulcano per andare a vedere l'eruzione di San Sebastiano la lava in quel caso rara perché il Vesuvio in genere fa questa roba qui queste esplosioni ma fece anche delle colate di lava che scendevano da questa parte e invasero il paese di San Sebastiano arriva San Sebastiano con la jeep perché dice madonna mia levatevi di torno cosa fate qui ancora e trova tutti gli abitanti in processione con la statua di San Sebastiano verso la colata lui riguarda il sterrefatto dice dice no perché noi interveniamo col santo vedrà che la colata la colata si fermò veramente il giorno dopo ma era già entrata nelle case io sono andato a vedere i propri posti c'è una chiesa sommersa eccetera a un certo punto poi lui se ne va via sconsolato prende i suoi appunti poi ha scritto un libro bellissimo e dietro l'angolo che cosa trova un'altra processione pronta con una statua però ricoperta da un velo quello è San Gennaro nel caso San Sebastiano non avesse funzionato c'era pronto San Gennaro e che vuoi che sia è sicuro che ti difendi da che dipenderà dal caso in fondo siccome dipende dal caso da Dio ci penseranno il caso è Dio perché ci dovremmo pensare noi uomini e queste invece sono le ultime poi lascerò qualche minuto per le domande se ce l'abbiamo parliamo degli tsunami lo tsunami del 2004 se voi andate in rete vedete questo bello oggetto qui adesso magari è un po' scuro e io non so ecco vedete questi sono palazzi che hanno 12-13 piani quindi saranno alti una quarantina di metri con l'onda di tsunami che li sovrasta ma ce ne sono anche di più questa qui la vedete dove è l'onda questo non c'ha 20 piani ce ne avrà 50 significa che questa onda è 200 metri ma non è vero si è parlato molto in questo festival sul nuovo linguaggio del web quando c'è un errore nel web te lo porti appresso e non te le liberi più se voi digitate in rete immagini tsunami 2004 le prime due che vedete sono queste sono false sono due immagini false ma vicino c'è scritto immagini dello tsunami del 2004 quello di Santo Stefano del sud-est asiatico ma quando mai c'è un'onda di 100 metri lo tsunami è un'altra cosa lo vediamo in quelle immagini nel Giappone è questo è un'onda che piuttosto che venire dall'alto monta da sotto la vedete sono 4-5 metri in questo caso sporchi di petrolio che investono in Fukushima questo è lo tsunami del 2011 in Giappone questo è lo tsunami non è che è meno forte quando arriva questa roba qua si porta dentro come proiettili tutta questa roba qui spazza tutto e ritorna indietro perché lo dobbiamo rappresentare in quel modo non è vero è un falso un fotomontaggio è una cosa che non ci uno lo vede ma può essere mai una cosa del genere questo fa un milione di morti se è così sono possibili i megatsunami ma non da terremoto e non da quel terremoto per quanto l'ondata di Fukushima fosse mi pare di 10 metri e mezzo sormontando il muro di 8 metri che loro avevano fatto per difendere la centrale nucleare questo è il motivo per cui l'acqua poi è entrata dentro ha messo in crisi il sistema di sicurezza e c'è stata la quasi fusione del nocciolo ma questa roba qui non è vera e dunque chiudendola poi e poi magari lasciandovi spazio per qualche domanda quando parliamo di catastrofi la cosa migliore sarebbe sapere quello di cui stiamo parlando ma quello che possiamo vedere diciamo spaziando dal web fino ai giornali perché l'occasione era troppo immediata è che anche quelli che fanno il giornalismo migliore si fanno prendere dalla mano del racconto terribile dell'onda assassina della montagna kill del terremoto spietato della natura rabbiosa e violenta che sono tutte sostanziali cazzate che potrebbero evitarsi tranquillamente perché potrebbero approfondire quel ragionamento che facevo io come mai all'Aquila quel terremoto ha fatto questo e qui ha fatto quest'altro non sarà che i terremoti e tutte queste altre cose dipendono da noi non sarà che le catastrofi non esistono ed esiste solo la nostra incapacità di vivere armonicamente col mondo che ci circonda sarà così grazie bene grazie a Mario Tozzi abbiamo tempo per due Massimo tre domande prego sì sì pronto intanto la ringrazio per la sua esposizione volevo sapere se è possibile il suo punto di vista scientifico chiaramente per quanto riguarda il problema dei campi flegrei perché ne ho lette di tutti i colori vorrei sapere qualcosa di più grazie mi sentite sì funziona questo ecco i campi flegrei non li ho citati perché non c'è stata un'eruzione in tempi recenti ma certamente è un vulcano anzi un complesso di vulcani più pericoloso ancora del Vesuvio sono 29 bocche eruttive noi conosciamo in genere la solfatara perché qualcuno ci ha fatto una passeggiata dentro ma non so dove si fanno le corse ad Agnano Agnano è dentro un cratere la base militare degli Stati Uniti è dentro un cratere l'ospedale di Pozzuolo è dentro un cratere dunque sono tutti vulcani attivi quello sì è veramente un vulcano pericoloso l'opinione è che quello come il Vesuvio prima o poi eruttano però nel caso dei vulcani un minimo di tempo per prevederla l'eruzione ce l'abbiamo dunque diversamente rispetto al terremoto che non permette predizione né previsione il vulcano lo permette quindi in questo senso ah no sono sette diciamo tra i sette e i quindici giorni prima si riesce a saperlo poi tu devi aver fatto delle esercitazioni in modo che da quell'area lì mio padre è napoletano dunque lo dico con molta simpatia tutti abbandonino tutte le proprie cose una valigetta ti puoi portare tu immagina già col materasso il cane la pasta fatta il giorno prima devi abbandonare tutto non prendere l'automobile privata ma andare ai pullman messi a disposizione o alle navi per esempio da Castellammare di Stabia si viene qui a Genova e evacuare in un giorno cioè secondo me un anno ci vuole per evacuare quel posto cioè l'emergenza lì è adesso se tu vuoi tornare a casa all'ora di pranzo non torni quindi figura se fai evacuazione ma lì ci vuole l'esercitazione perché quante volte la ripeti tanto più la farai automaticamente è come sulle navi quando fai l'esercitazione antinaufragio o sull'aereo che ti dicono ma a forza di sentirlo magari farai automaticamente la cosa giusta non ragionerai se ragioni sbagli questo è sicuro perché sono tutti comportamenti controintuitivi come? mi voglio portare il gatto al materasso non ti devi portare il gatto al materasso ti devi lasciare a casa e qualcuno se ne occuperà so se c'è un'altra domanda volevo fare questa domanda volevo capire lei come riesce poi dopo a gestirsi il ritorno alla stampa con il suo direttore eccetera beh io l'ho fatto semplicemente notare ha scritto peraltro delle cose molto giuste sul terremoto ma la violenza della natura no quello è proprio sbagliato e beh me lo gestisco così perché giustamente a noi viene il dubbio se su cose in cui lei conosce così bene sulla geologia sulla natura a noi viene il dubbio leggendo invece il nostro giornale tutti i giorni di economia di politica e di altre ci sia magari un'aspetto di ecolarizzazione e magari un ritorno non sempre reale già il dubbio è qualcosa io ho la certezza no ma non è il caso di Maurizio ovviamente ultimissima domanda eventualmente c'è una signora qua sì no ma perché Gian Antonio Stella sono tutti amici però io lo devo dire una domanda molto interessata io abito a Camogli quindi lei avrà visto le case di Camogli sì l'ho vista di secoli secoli come ci potremmo difendere noi che abbiamo case vecchie però qui diciamo la Liguria sismica veramente è quella occidentale poi questa qui risente invece questa di Levante risente un po' di più dei terremoti di Garfagnana e di qualcosa che si scatena nell'arco alpino è bene stare sempre attenti però queste case qui appoggiano su roccia spesso quindi questo attenua un po' le onde sismiche e poi io contro l'ino ogni tanto glielo farei strutturale quando ristrutturi una volta ogni quarto di secolo magari ti preoccupi di infilare una chiave nel muro dove vedi cioè sono interventi anche di statica non necessariamente il terremoto è una solicitazione dinamica non è solo il peso dell'edificio quindi io una controllatina ce la farei però vedi anche la zonizzazione sismica non è S1 dunque è anche un po' con misura della spesa però attenzione ecco l'attenzione il controllo mica sempre ci vuole rintervenire grazie a tutti arrivederci ancora grazie a Mario Tozzi per la comprensibilità e la simpatia adesso chiedo a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.